Steve credeva in te. Si fidava di te. Perché hai dato via lo scudo? Ho fatto quello che ritenevo giusto. Il retaggio di quello scudo è... complicato. Io sono Captain America. So cosa dobbiamo fare. Vi do un consiglio. Vedete di non intralciarmi. Abbiamo dato il sangue per questo paese. Con o senza scudo. Nessuno mi dirà che non posso lottare per l'America. Non vogliamo che si faccia male qualcun altro. Meglio se non lo fate. Ma dobbiamo. Grazie. Grazie.